Mi sono, a dir poco, arrabbiato perché, come hai detto tu, abbiamo iniziato bene la gara, poi al primo episodio negativo la squadra si è un po' raffrusciata. Abbiamo sbagliato, abbiamo fatto tanti errori di passaggio, errori di misura e a volte eravamo molto frenetici. Quindi mi sono molto arrabbiato con i ragazzi perché sapevo che non era quella la nostra squadra, quello che avevamo dimostrato durante l'arco del campionato. E quindi poi siamo entrati al secondo tempo vogliosi di volerla ribattare e ci siamo riusciti.